a tutti voi bentrovati le notizie di oggi martedì 9 di giugno i carabinieri della compagnia di senigallia hanno arrestato ancora una volta lucio giovannelli questa volta per evasione e furto aggravato è stato trovato presso l'officina fiat frulla che usciva da una hyundai santa fe che era lì parcheggiata in attesa di riparazione l'uomo si era introdotto nell'auto per rubarne l'autoradio in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto innanzi al tribunale di ancona è stato ristretto nelle camere di sicurezza tre feriti in un incidente avvenuto l'altro ieri a gabella di montemarciano si sono scontrate ad un incrocio due auto una condotta da una donna di 38 anni di montemarciano l'altra guidata da un 43enne di origini straniere ma anche egli residente a montemarciano che viaggiava in compagnia della figlia di 19 anni proprio la ragazza era rimasta incastrata nell'abitacolo ed è stata liberata dai vigili del fuoco di senigallia tutti e tre i feriti sono stati trasportati al pronto soccorso ma le loro condizioni non sono gravi addio ad un ingegnere per bene l'ordine degli ingegneri della provincia di ancona ricorda proprio così emanuele faggi di montemarciano scomparso prematuramente ieri a causa di una malattia incurabile aveva 58 anni faggi è stato consigliere dell'ordine degli ingegneri dal 2005 al 2013 e attualmente membro del consiglio di disciplina la comunità degli stranieri di senigallia si ritrova dopo il voto per ringraziare i tanti elettori che hanno partecipato alla consultazione per fare il punto sulle prossime iniziative l'appuntamento è a san rocco per sabato 13 giugno alle 21 all'incontro coordinato da mohamed malì interverrà il neo eletto consigliere straniero aggiunto ramal aminur il centro di forma giovani di senigallia segnala due opportunità molto interessanti sentiamo al centro di aggregazione bubamara ci sarà un'attività formativa gratuita per utilizzare software e usili per la disabilità in collaborazione col tecnico usili della liga del filo d'oro e offriremo 20 ore di formazione gratuita e con priorità per operatori del settore familiare ma comunque aperta a tutti a partire da giovedì 11 giugno e quindi ricordiamo che al CAG ci sono questi due computer che hanno delle caratteristiche specifiche per disabilità sensoriale, motoria, cognitiva e per non vedenti per quanto riguarda invece l'informa giovani organizzeremo un incontro gratuito dal titolo voglio andare in Australia e quindi ripetiamo dopo il successo che ha avuto la prima edizione sarà di nuovo a Senigallia la dottoressa Sonia Rossetti, agente di immigrazione australiana questo giovedì 25 giugno alle ore 17 presso la sala conferenza della biblioteca comunale si parlerà di normative ed esperienze sulle immigrazioni in Australia e saranno presenti anche due testimonianze di ragazze che sono già state in Australia dopo l'excursus internazionale che ha portato a conoscere le difficili realtà di Messico e Siria continuano gli incontri laboratorio delle strade della partecipazione organizzati dall'associazione merope. Mercoledì 10 alle 21 presso la sala dell'ex ostello di via Marchetti a Senigallia si entra nel vivo della questione locale. L'obiettivo è prendersi carico di un problema cittadino e mettere in pratica delle soluzioni sino ad una risoluzione definitiva. Undicesima edizione della rassegna di storia contemporanea promossa dal locale centro mazziniano in collaborazione con l'associazione di storia contemporanea. Domani sera mercoledì 10 giugno parte l'undicesima edizione della rassegna di storia contemporanea organizzata come sempre dal centro mazziniano di Senigallia in collaborazione con l'associazione di storia contemporanea. Anche quest'anno tre appuntamenti, il primo è quello di domani sera mercoledì 10 ore 21 e 30 a Palazzo del Duca incontro con Flavio Lotti che presenta il suo ultimo libro Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo. Flavio Lotti è uno dei più importanti pacifisti italiani e non solo italiani anche europei. Da oltre 30 anni è impegnato nelle battaglie per i diritti umanitari e per la pace. È l'organizzatore della Marcia della Pace Perugia Assisi e presenta appunto questo volume di recente pubblicazione, la sesta edizione di un libro già di successo dello stesso Lotti che ci parla appunto, fa il punto della situazione sui 46 conflitti attualmente in atto nel mondo. Lotti sarà presente all'incontro di domani sera a Palazzo del Duca, questo primo appuntamento poi sarà seguito da altri due incontri, uno domenica 14 giugno e uno mercoledì 17 giugno di nuovo a Palazzo del Duca, mentre l'incontro di domenica 14 sarà diviso in due parti, la mattina a Montemarciano e al pomeriggio all'auditorium San Rocco di Senigallia, undicesima edizione della rassegna di storia contemporanea del centro mazziniano di Senigallia. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'appuntamento come sapete per domani vi aspetto.